Tutto facile per la Recanatese che, contro il malcapitato Nereto, offre una prova di forza e dà un segnale al campionato. I leopardiani rifilano ben sei reti a rosso-blu che tornano in Abruzzo con la consapevolezza che, per cercare di lottare per la salvezza, ci sarà da fare veramente tanto. Partenza a tutta velocità per la Recanatese che, già dopo un solo giro di lancette, si ritrova in vantaggio. Corner battuto dalla sinistra da Giampaolo e perfetto tocco di testa di sbaffo a centroare che supera Diglio. I giallorossi mettono subito la partita in discesa. Al settimo ci prova il giovane Quacquarelli, ma Diglio evita la capitolazione. I padroni di casa dominano col Nereto che non riesce a uscire dalla prova a metà campo. Al quattordicesimo Giampalo pennella per la testa di Minella che però difetta nella mira. Gli abruzzesi mettono il naso fuori dal guscio al ventesimo quando Boito calcia al volo da buona posizione ma spedisce il pallone sopra la traversa. Al ventiquattresimo la Recanatese fa le prove generali per il raddoppio. Senigalliesi crossa e sbaffo al volo, trova l'opposizione di un difensore rosso-blu che devia il pallone in corner. Trascondrono 120 secondi e gli uomini di Pagliari trovano il 2-0. E' ancora lo scatenato Senigalliesi, sicuramente migliore dei suoi nella prima frazione, a scodellare una perfetta palla al centro dove rompe Giampalo che fa secco Diglio. I leopardiani giocano sul velluto col Nereto che fa solo girare palla senza creare grattacapi alla difesa di casa. Sul doppio vantaggio Giallorosso si chiude il primo tempo. Ad inizio ripresa rientrano gli stessi 22 col Nereto che cerca di trovare il varco giusto ma al tredicesimo subisce il terzo gol. Somma entra in area e viene attaccato da Brunozzi e cade a terra. Per l'arbi non ci sono dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Sbaffo che supera Diglio firmando la personale doppietta. Trascorrono altri tre minuti e arriva anche il 4-0. Minella parte in contropiede e allarga verso Senigalliesi che in diagonale fulmina Diglio. I ritmi si abbassano vertiginosamente. Sia Pagliari che Bitetto pescano dalla panchina, visti anche i prossimi impegni. E proprio dalla panchina arrivano gli ultimi due gol di giornata. Prima alla mezz'ora Defendi a capitalizzare al massimo un assist di Sbaffo per il 5-0. Poi 5 giri di lancette dopo e Minicucci a gonfiare la rete per un più che rotondo 6-0 che sta a certificare la superiorità della Recanatese, la quale guarda con ottimismo alla trasferta di Fiugi. Il Nereto dovrà invece dimenticare in fretta questa giornata in vista della cara Casalinga contro l'Aurora Alto Casertano. Un vero e proprio spareggio tra ultime della classe. Non è che capita tutte le domeniche vincere 6-0, però i ragazzi hanno fatto bene, stanno facendo bene. Sono contento, sono sempre concentrati anche durante la settimana. C'è un buon gruppo e sono contento anche per gente che si sta ritrovando come Defendi. Abbiamo recuperato Minicucci, sono contento dei giovani. Sono contento. Ebbè, domenica abbiamo una partita pesantissima, importantissima col Fiugi. Sì, Marco era diffidato, però al di là di questo, chi entra non mi crea problemi perché quelli che stanno in panchina sono bravi come quelli che giocano e l'hanno dimostrato. Perciò sicuramente stiamo già pensando, stacchiamo domani, ma io no perché c'è da pensare a Fiugi che è una squadra forte.